La New Basket Agropoli vince contro Benevento ed accede alla fase playoff. È stata una gara molto combattuta ma alla fine ha prevalso chi aveva maggiore motivazione. La gara ha visto i cilentani sempre avanti con un vantaggio che è stato altalenante nelle diverse fasi portando alla fine i locali alla vittoria 79-70. Due punti che valgono ai delfini ad accedere alle semifinali chiudendo seconda classificata dovrà affrontare domenica prossima 6 giugno al pala di concilio fuori Odischia alle 16.30 per la prima gara di andata. Il ritorno sarà disputato subito mercoledì 9 giugno a Pozzuoli. Alla stessa ora la squadra vincitrice andrà a giocarsi la finalissima contro la vincente tra Salerno e Benevento sempre nelle due gare di andata e ritorno. In caso di una vittoria per compagine a prevalere sarà la differenza Canistri. Molto soddisfatto coach Franco Lepre. È stata una gara dura ma ce lo aspettavamo. Siamo stati sempre avanti con una margine talvolta maggiore e altre minore ma l'importante è aver portato a casa il risultato che ci permette di andarci a disputare i playoff. Tutto è andato come da piano programma. Loro sono venuti qui per giocarsi la partita ma alla fine è emerso che le nostre aspettative erano doppiamente superiori alle loro. Già qualificati. Adesso abbiamo il tempo di rifiatare, di recuperare energie e magari anche gli acciaccati per arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili. È tempo di bilanci. Abbiamo vinto 4 gare su 5. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questa fase a orologio come nella fase regolare. Adesso il prossimo obiettivo è vincere le semifinali. Per andarci a giocare la finalissima ce la metteremo tutta.